e amici di media board salve a tutti e welcome to our friends around the world e oggi vi vogliamo proporre un'esperienza gastronomica davvero particolare. Siamo a Walt Disney World nel centro della Florida vicino a Orlando e stiamo per andare a pranzare al 50's Prime Time Cafe ovvero un ristorante dove si ricrea l'atmosfera che diciamo caratterizzava la casa di una famiglia americana più o meno negli anni 50. Come anno di riferimento era più o meno il 1955 quindi tutto quello che caratterizzava quel periodo ovvero i mobili di un certo tipo, mobili in formica, le radio di forme particolari e anche cibo naturalmente. Tutto questo mentre sugli schermi dei televisori scorrono esattamente gli stessi programmi in bianco e in nero che andavano in onda durante appunto il Prime Time del 1955 oggi utile. Ecco ci hanno fatto accomodare, siamo in attesa delle nostre pietanze, abbiamo ordinato del salmone con un contorno di stagione e non vediamo l'ora di assaggiarlo perché ci hanno detto che i cibi sono veramente squisiti. La cucina è quella tipica degli anni 50 quindi la tipica americana. Intanto sui monitor, sui televisori scorrono le immagini del Dick Van Dyke Show, proprio uno show di quel periodo. Come dessert abbiamo scelto di dividere io e Stefan Omero, il più classico dei dolci americani, un brownie con del gelato alla vaniglia, un fiocchino di panna con una ciliegina e guarnito con una salsa al cioccolato. Beh dunque ci siamo rifocillati e soprattutto abbiamo usato una vera e propria macchina del tempo per ritrovarci agli anni prima addirittura della nostra nascita. Con questo dall'Olivo Studios e dal 50's Prime Time Cafè è tutto. Vediamo appuntamento alla prossima occasione e vi chiediamo di continuare a seguirci sul nostro sito di riferimento www.mediaboarding.it su tutti i principali social network e in particolare sul nostro canale YouTube Emilia Bordi. Ciao a tutti e per quelli che arriveranno da queste parti buon appetito. Aiuto Stefano mi mangio la ciliegia, ecco lo sapevo. Grazie.